Bentornati! Ma quanto guadagna un compositore? È una domanda ovviamente che tanti ragazzi mi fanno spesso ed è una domanda assolutamente legittima perché è giusto che uno abbia delle aspettative quando comincia a lavorare in un determinato campo soprattutto è giusto che sappia quanto è ragionevole che possa guadagnare in rapporto a quanto in quella attività ha investito Di per sé però vi rendete assolutamente conto che non si può rispondere con un numero e basta bisogna entrare un po' più nel dettaglio è un po' come se mi chiedeste ma quanto guadagna un calciatore? È chiaro che il terzo portiere di una squadra di Serie B non guadagnerà quanto Cristiano Ronaldo negli Emirati Arbi eppure sono tutti e due dei professionisti del settore eppure hanno fatto tutte e due, hanno la stessa formazione hanno fatto la scuola caccia, hanno fatto i provini però sapete benissimo che la differenza tra lo stipendio di uno e lo stipendio dell'altro è di diversi zeri Spesso e volentieri sento dei colleghi compositori che si lamentano che i soldi non sono più quelli una volta i budget non sono più quelli una volta eccetera 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 È vero, è un dato assolutamente oggettivo quello che guadagniamo di compositori negli anni 70-80 oggi non si guadagna più però dobbiamo stare attenti i mercati cambiano e anche i modelli economici cambiano e i soldi non è che non ci sono più semplicemente si sono spostati quindi se pensate oggi di fare questo lavoro con le stesse modalità e le stesse aspettative dalle stesse fonti di reddito degli anni 70 probabilmente andrete incontro a delle forti delusioni perché in realtà la domanda giusta non è quanto guadagna ma come guadagna un compositore cioè quali sono le fonti di reddito di un compositore quelle più tradizionali che riguardano sia i compositori in musica applicata sia i compositori di musica assoluta sono le cosiddette commissioni quello che si chiama commissione nel caso di musica da concerto e premio partitura se parliamo di colonne sonore cioè la cifra che viene pagata al compositore per il fatto che sta scrivendo quel pezzo che gli è stato commissionato difficile quantificare questa cifra perché è ovvio che se vi commissionano un pezzo che verrà eseguito in un paesino sperduto dell'Oklahoma non è come se il pezzo che vi viene commissionato verrà eseguito alla New York Philharmonic e per lo stesso principio il primo partitura di un film a basso budget non potrà essere uguale al primo partitura di una grossa produzione internazionale ma per darvi comunque un range per capire di cosa stiamo parlando diciamo che la commissione o primo partitura è una cifra che varia da 1000 a 50.000 euro è chiaro che se siete James Newton Howard o Ludwig Goranson o Hans Zimmer la sua prima partitura sarà ancora notevolmente più alta ma insomma vi ho dato una cifra con un range accettabile in un mercato umano poi un'altra fonte di reddito di un compositore sono sia i diritti di autore che i diritti connessi quindi quelli che si guadagnano dall'esecuzione della propria musica sia che sia eseguita dal vivo in un concerto sia che venga abbinata a un film per esempio al cinema allora la percentuale che generalmente si guadagna per un concerto è indicativamente intorno al 5-8% dell'incasso di quel concerto o di quei concerti se sono più di uno naturalmente ovviamente attenzione a un passaggio questa cosa vale se siete l'unico compositore di musica non di pubblico dominio che viene eseguita cioè una sera fanno un concerto cioè musica di Mozart, di Beethoven, di Brahms e di Vito Lorè è chiaro che come dire in questo caso sono l'unico a percepire questa percentuale di cui vi ho parlato prima se però oltre a me ci sono altri compositori viventi o comunque contemporanei ovviamente quella cifra andrà divisa fra i vari compositori in rapporto alla durata della propria musica quindi se io ho fatto un pezzo da un minuto e uno a un pezzo di 5 minuti lui guadagnerà 5 volte quello che guadagno io ma il totale di questa cifra sarà sempre preso da quel 5-8% di cui vi ho parlato all'inizio al cinema la percentuale è decisamente più bassa senza entrare in questione di edizione o di non edizione vi dico che la cifra che il compositore guadagna è dallo 0,5% all'1% dell'incasso che tradotto in altri termini significa che il compositore guadagna dai 5 ai 10.000 euro per ogni milioni di incasso del film è ovvio che la percentuale è molto più bassa rispetto a quella del live ma è anche vero che insomma avete molte più possibilità di guadagnare le cifre importanti da un film rispetto a quanto potete guadagnare da un concerto poi ovviamente i compositori guadagnano quando la propria musica viene trasmessa in televisione ovviamente questo riguarda principalmente chi fa musica applicata ma può riguardare anche un compositore di musica assoluta quando il suo concerto venga trasmesso dalla televisione e qui è impossibile quantificare quanto si guadagna perché dipende da una lunga quantità di fattori in particolare da che canale viene trasmesso è chiaro che Rai 1 non paga la stessa cifra di telepasserano marmorito evidentemente Rai 1 non paga molto di più poi dipende dalla fascia oraria dipende dallo stato ci sono degli stati in cui le tariffe sono più alti e altri stati che le hanno più basse poi un altro criterio importante è se la nostra musica è eseguita come sottofondo o se è eseguita come musica diciamo così in primo piano ci sono tariffe diverse che variano anche qui da canale a canale da fascia oraria a fascia oraria poi al giorno d'oggi abbiamo naturalmente le piattaforme di streaming audio e video che sono famose per pagare molto 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 poco lungi da me giustificare il fatto che paghino così poco perché veramente le cifre che oggi arrivano da una piattaforma tipo Netflix o Spotify insomma sono veramente molto basse direi irrisorie nel bilancio anno di un compositore diciamo che quello che queste piattaforme ti danno è la possibilità che la tua musica sia ascoltata in 190 paesi del mondo certo la tua musica è quella di poche altre decenni e migliaia di compositori insomma quindi non è che sono tutti lì anche nell'ultimo paese sperduto ad ascoltare la tua musica insomma però insomma è indubbia che dal punto di vista potenziale hai un pubblico teoricamente sterminato queste che vi ho elencato sono più o meno le fonti tradizionali di reddito per un compositore ma oggi come oggi un compositore ha anche un'altra serie di opzioni da cui trarre guadagni in particolare con l'insegnamento, le masterclass, i panel, gli eventi e non sottovalutate questa cosa perché molto spesso si guadagna di più da un evento aziendale o da un panel a cui viene invitato che magari da un film che non è andato come ci si aspettava che andasse e tuttavia ti chiamano a tenere il panel o la masterclass o quello che è se hai una credibilità ovviamente professionale se comunque sei riconosciuto anche dico nell'ambiente non riconosciuto nel senso che ti fermino per strada evidentemente però insomma se nell'ambiente hai una certa riconoscibilità e un minimo di se non di autorevolezza almeno un minimo di stima professionale ecco quindi che oggi come oggi è sempre più frequente il fatto che la musica ti serva come pretesto per poter fare altro e tutto sommato se non fai la musica non puoi fare quell'altro perché il mondo va sempre più verso una specializzazione estremamente approfondita cioè a dire la pubblicità si dice è l'anima del commercio altri dicono la concorrenza ma diciamo la pubblicità però nel mondo di oggi in cui la televisione è guardata sempre meno e tutti invece passiamo la vita con questo aggeggio è chiaro che il modello economico non è più fare la pubblicità in televisione dove oltretutto ti viene mandata come dire pesca strascico no? fai una pubblicità e vabbè chi lo guarda una parte sarà interessato al tuo prodotto una parte no ma cosa c'è di meglio invece che fare una pubblicità che va bene per me che adatta per me sapete insomma siamo spiati siamo controllati ogni volta che facciamo una qualunque cosa su internet un qualcuno prende nota del fatto che noi abbiamo un certo tipo di preferenza un certo tipo di gusto un certo tipo di interessi e casualmente immediatamente se voi andate su google e cercate vacanze in Zambia casualmente 5 minuti dopo vi arriverà una mail dove vi dirà vuoi viaggiare in Zambia? vieni dalla nostra agenzia di viaggi e qualcosa del genere per cui insomma oggi il mondo funziona così e da un certo punto di vista è giusto perché i famosi influencer cosa fanno fondamentalmente? incanalano un qualcosa di ben preciso verso un target ben preciso e sono essi stessi un qualcosa di più credibile come testimonial detto in altri termini se io devo vendere il mio prodotto qualunque esso sia e chiamo un grande attore un grande testimonial per fare lo spot del mio prodotto questo prodotto sarà lanciato appunto nel mare magnum della pubblicità qualcuno sarà interessato e qualcuno non lo sarà ma questa cosa funziona soprattutto per i prodotti di largo consumo il caffè gli abiti le macchine tutto quello che vogliamo ma su prodotti particolarmente di nicchia pensiamo ad esempio che so a un software di notazione musicale non avrebbe alcun senso anche ad avere i soldi per farlo far la pubblicità di un software di notazione musicale su Rai 1 perché? perché quanto del pubblico di Rai 1 sarà interessato a quel software di notazione musicale e lo andrà a comprare? lo 0,0 qualcosa è più logico che io che faccio questo lavoro faccia da testimonial a un software di notazione musicale e dica cari amici cari colleghi sto usando questo software sapete è proprio valido questa funzione e così via insomma vi darò delle specifiche anche tecniche vi darò dei dati interessanti per voi che siete interessati a un software di notazione musicale e non dispedremo energie a far vedere il software di notazione musicale a mia zia a cui non interessa per nulla evidentemente per cui se da un lato la pubblicità tradizionale funziona oggi solo per i prodotti di largo consumo e per chi lavora su larga scala su altri prodotti non sarebbe né economico ma neanche utile fare pubblicità in televisione serve invece la pubblicità mirata e quindi di conseguenza molte volte i compositori hanno anche delle partnership magari con delle aziende appunto che fanno un software per la musica o con delle aziende che fanno degli strumenti o dell'hardware utilizzato in campo musicale a volte succede che si faccia una partnership o una sponsorship per cui magari l'azienda ti manda il suo prodotto il suo strumento musicale il suo software il suo hardware quello che è te lo regala facendoti comunque risparmiare magari anche parecchi migliaia di euro che avessi speso se l'avessi comprato e tu in cambio fai una recensione di quel prodotto la cosa è assolutamente corretta soprattutto quando viene dichiarata si dice ho ricevuto questo prodotto ve lo recensisco dirò in tutta sincerità quello che penso di questo prodotto e non solo perché me l'hanno regalato ne parlerò per forza bene o almeno questo in teoria per cui giovani virgulti della composizione musicale applicata o assoluta è indubbio che oggi come oggi entrate a far parte di un mercato difficile soprattutto non perché il mercato non abbia le risorse ma per l'enorme concorrenza che c'è e tuttavia vi dico che questo lavoro si può ancora fare oggi l'importante e non pensare nel 2000 ai modelli economici che c'erano negli anni 70 ragionato con i modelli economici di oggi ragionato con le possibilità di oggi internet in particolare insomma è un luogo che offre delle possibilità straordinarie se le si sanno cogliere e soprattutto voi che siete giovani e che utilizzate questi mezzi in maniera molto migliore e molto più cosciente di quanto può fare una mia generazione non parlo neanche di quelli di generazioni precedenti sfruttatele queste conoscenze che avete perché come vi ho detto all'inizio non è vero che non ci sono più i soldi i soldi ci sono sono sempre lì semplicemente si sono spostati quindi il motto non è più cercher la fame ma cercher l'argento perché le capacità di fare un determinato lavoro le diamo per scontate ma vi assicuro che a differenza tra un compositore che vive e bene di questo lavoro e uno che non riesce a farlo è che il primo non è più bravo del secondo semplicemente il primo ha seguito il flusso economico di cui vi sto parlando e questo vale per i compositori ma vale anche per gli attori per i registi per un'infinità di categorie professionali pensateci e ci vediamo alla prossima